Il campo basso batte il vasto Girardi con un gol per tempo e stacca più otto il notaresco. A meno di cataclismi, i colori rosso-blu si apprestano a tornare in un professionismo da tempo agognato e che a breve la squadra potrà raggiungere con il conforto della matematica. Hanno deciso il derby, gol di Vitali e Cogliati, nello spettacolare scenario del Ditella, di fronte a pochi intimi accreditati al cospetto di un vasto Girardi che a breve saluta Mercai destinato al professionismo. Dirige Bozzetto di Bergamo con le immagini di Antonio Trotta. Siamo al settimo, dal fondo Cogliati mette al centro dove Vitali alza sopra la traversa. Ancora il rosso-blu con lo spunto di bontà al decimo che va a pescare Candelori stoppato in posizione di fuorigioco. Un solo minuto dopo, grosso occasione per il vasto Girardi con il cross di guida del pallone alzato sopra la traversa da Salatino in ottima posizione. La squadra di Prosperi tiene testa al campo basso attraverso una partita molto attenta. Di contro i rosso-blu cercano il guizzo giusto per sbloccare. La gara succede al 32 quando Rossetti tiene bene il pallone e va a servire Vitali che si prepara ad un sinistro molto preciso che non lascia scampo a guerra. È 1-0 per i rosso-blu e sesto gol per Vitali. Quasi due minuti dopo taglio di Candelori, piattone di Cogliati che sfiora già il bis. La partita prende una piega in favore del rosso-blu dal 35, dal cross di Bontà non ci arriva prima Vitali, poi Rossetti. Mentre un minuto dopo da taglio di Candelori, torre di Bontà a palla intercettata da Raucci. Gli ospiti chiedono un mani irregolare ma le proteste vengono ignorate dal bergamasco Bozzetto. Al 39esimo pallonetto di Rossetti per Cogliati che dal fondo non riesce a sorprendere guerra. Il vantaggio dei rosso-blu è legittimo. Al 43esimo ottimo lavoro di Rossetti per Cogliati che alza troppo la mira. Finisce il primo tempo senza minuti di recupero. Dopo 1-1,5 della ripresa, grosso occasione per il rosso-blu con Rossetti lanciato a rete. Dopo velo di Vitali cade Rossetti. La porta è vuota, arriva Bontà che alza troppo la mira. Nel tanto ricercato da doppio ospite servito all'ottavo quando Vitali allestisce un pallone invitante per Cogliati. Colpo da biliardo per l'attaccante milanese e palla alle spalle di guerra. La vittoria è congelata. Prosperi a questo punto decide di cambiare. Dentro Mercai, fuori Fioretti. Ancora il rosso-blu al sedicesimo con una palla recuperata con i tempi giusti da Candelori. Offerta Cogliati, murato benissimo da guerra. Dal ventesimo nel rosso-blu dentro Tengorang al posto di Ladu. I locali costruiscono una palla-gola importante. Al ventitresimo, gran cross di guida. Dal fondo salta Salatino, parra Racichini ma il pallone non varca la linea di porta così come chiedevano i giocatori di casa. Il Campobasso continua a collezionare palle-gola. Al ventiquattresimo da Candelori a Rossetti che calcia a lato da posizione defilata. Alla mezz'ora a provarci è Mercai che si gira nello stretto ma non inquadra la porta. Ancora cambi con l'ingresso di Maniscalchi nel Vasto Girardi e a Kunzo per Raucci e Pesce. Nei rosso-blu si fa male Menna al suo posto. Dentro Sbardella, il Vasto Girardi non alza mai bandiera bianca. Dal trentaquattresimo dal cross di Mercai si ritrova guida in posizione ottimale ma calcia male e a lato. Battute finali. Al quarantatresimo Rossetti calcia ancora da defilato. Paraguerra torna in campo Leonardo Brenci. Nel Campobasso non si vedeva in una partita ufficiale da circa tre mesi e prende il posto di Cogliati. Comandati cinque minuti di recupero. Al novantunesimo da angolo di Candelori c'è la testa di Bontà. Il pallone prima toccato da Vitali poi da due passi il gol di Rossetti non viene accordato perché probabilmente il pallone aveva già varcato il fondo quando lo stesso era stato calciato da Candelori. Al triplice fischio esplode la gioia matta dei giocatori del Campobasso che si stringono in un abbraccio fortissimo e provano a condividere virtualmente la gioia della vittoria con qualche campobassano giunto in alto Molise e che aveva tentato senza fortuna di assistere a distanza al derby. I momenti successivi condensano tanta felicità per i colori rosso-blu per i quali la Lega Pro diventa a questo punto soltanto una questione di matematica. Gli stessi giocatori consumano dei festeggiamenti calorosi all'interno degli spoiatoi del Ditella mentre qualche ora più tardi la squadra viene salutata e festeggiata da alcuni tifosi che erano in attesa del Pullman all'ingresso di Selvapiana. Scene bellissime ed emozionanti che riempiono il cuore dei tanti sportivi rosso-blu. Viva la fine del Campobasso! Viva la fine del Campobasso! Viva la fine del Campobasso!